Ciao a tutti! Avete visto come si installa tutti i programmi? Adesso vi faccio un esempio con questi programmi già installati Presupponiamo che il vostro computer già c'è questi programmi Per questo vi faccio guardare che ce l'avete bisogno Avete bisogno di una file bianco-nero Io ho creato Compaint salvata come png o bitmap come volete voi Dopo abbiamo bisogno di img-nc Programmi che abbiamo fatto prima a guardare come si apre, dove è, come si installa E come si fa una prova E dopo abbiamo bisogno di programmi gcode sender Con questa che vi faccio guardare prima come si installa e come Come il avete in vostro computer Adesso cominciamo con questa programma img-nc Shelfile Deci facciamo in questo modo come già imparato Shelfile Così Andiamo in Pictures dove ce l'avete bisogno di file Dove ce l'avete bisogno di file Deci io devo andare cui in Pictures Così Pictures Prendiamo con questa file Prendiamo con questa file Prendiamo con questa file Facciamo clic sopra E facciamo Open Lei si è aperto Però è piccola come avete detto prima Si deve trasformare Diciamo facciamo qua Facciamo .5 O ingrandiamo di 5 volte Deci tagliamo con questa E metiamo 5 Deci .5 Così Deci come vi ha dato prima Se deve fare refresh Così Facciamo prima refresh Così Cambiamo In .5 Deci am cambiato in .5 Come vi ha dato prima Scale Significa che lei si ingrandisce di 5 volte Significa che lei si ingrandisce di 5 volte Adesso prindiamo File Open Facciamo clic sopra E adesso lei è abbastanza grande C'è una dimensiune di 23x27 cm Abastanza grande E salveamo con questa file Vediamo dove salveam Il se salva in documenti Vediamo qua Già è selectato Documenti Anche qua Se vede sopra Anche qua In documenti Così Le se salva qui Deve essere salvat qui Con il nome Con il nome Costi CNC Con il nome Costi CNC Deci questa Se transferiva qui Facendo Save Facendo questa butone Save E noi facciamo adesso Save Che E le è salvata potete accessere da cui In documenti E da qui, con mostra nella cartella, come già avevamo fatto guardare costi cnc, nc. Ok, adesso apriamo questo programma G-Code Sender se non sapete dove, vi ho detto prima, si deve qua in queste applicazioni, la trovate, questa G-Code Sender, così, e adesso che deve fare? luat file open local file open local file andiamo a vostra andiamo, opriamo costi cnc che vi ho detto che è in folder in documenti in my documenti costi cnc facciamo clic sopra a costi cnc per apare qua se non ecqua non funziona costi cnc, e facciamo open facciamo open facciamo open in questo modo, vedete che imaginea è aperta in G-Code Sender, significa che programma è pronta per tagliare per fare movimenti però questa quando arriva cnc senza cnc non potete fare questo movimento io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto al prossimo video e eventualmente per comprare questa macchina che costa di meno e facile da usare fatto a posto per principianti a rivederci a rivederci a posto per esi ! lo ti